Buongiorno a tutti e benvenuti a questa undicesima lezione di Shoghi in italiano. In questa lezione mostriamo un'applicazione della debolezza del punto 7C, che è il pedone più debole della formazione Mino. Tra l'altro sembra un punto molto forte perché è difeso dal Re e dal Generale Argento, tuttavia questo rimane debole perché è possibile inchiodarlo. Vediamo che il bianco ha anche fatto quello che si dovrebbe fare in ogni castello, cioè ha messo il Re da una parte e la Torre da un'altra. Tuttavia in questa posizione è possibile attaccare il Re del bianco soprattutto perché non ha lasciato la finestrina vuota sulla sinistra. Com'è possibile per il nero guadagnare del materiale oppure dare scaccomatto? Qual è la posizione migliore in questa posizione? La mossa migliore, prima di dirvela, cercate di trovarla voi. Quindi mettete in pausa il video e poi dopo cercate di vedere se la soluzione che avete trovato è la stessa mia. Ok, allora questo fatelo naturalmente per ogni altro problema che vi sottopongo in questa sezione. L'idea è che naturalmente la prima cosa da fare è paracadutare, vedete, l'alfiere per inchiorare il pedone. Qui siamo rientrati nella posizione di base contro il Mino. Cosa succede però? Che questo paracadutaggio attacca contemporaneamente anche la Torre e quindi qui il bianco ha un grosso problema. Ha un grosso problema perché a questo punto deve decidere se salvare la Torre o prendere Matto. Infatti vedete che se per caso la Torre si sposta c'è lo stesso schema, scusate, di Matto che abbiamo visto prima. Catapulto paracaduto, quindi il cavallo in D7, in 7D, vabbè, quello che è, si sposta e Matto. Quindi una volta che abbiamo paracaduttato l'alfiere qui, per il bianco una possibile difesa sarebbe stata questa. Perché vedete che è vero che salva la Torre ma se non ci fosse stato questo pedone avrebbe impedito, vedete, il paracadutaggio del cavallo in questo punto. Quindi avrebbe sia salvato la Torre sia evitato il paracadutaggio. Tuttavia questo pedone è ben presente e quindi non è possibile farlo. Quindi arrivati in questa posizione vedete che se per caso io in questa posizione iniziale avessi tolto questo pedone qui, quindi avessi buttato via questo pedone, il problema non poteva risolversi come nel caso precedente. Infatti se io provo a giocare e fare la stessa cosa, vedete che stavolta, scusate, prima catapulto, poi vado qua, se io adesso provo a far questo, vedete che la Torre semplicemente lo cattura e non ho ottenuto niente, anzi ho solo perso il cavallo. Tuttavia in questa posizione è comunque possibile vincere per il nero. Com'è possibile? Beh, se volete fermare appunto, altrimenti continuiamo, l'idea è questa, si comincia dando subito scacco. Perché se per caso adesso si muovesse, si prenderebbe matto esattamente come uno schema precedente. Allora questa mossa è obbligata, ma stavolta vedete che l'alfiere viene paracarutato e fa il doppio a re e torre, e quindi il re si salva, non c'è problema, tuttavia, beh non proprio lì esattamente, comunque, vabbè, non so, si salva in questo modo, tutto, ecco, si salva e però appunto riusciamo a guadagnare la torre nell'angolo. Ok? Quindi questo è una delle possibili applicazioni del fatto di non avere la finestra qua in difesa. Se per caso appunto abbiamo questa situazione qui, possiamo sfruttare, vedete, un altro motivo tattico simile a quello precedente, tuttavia un po' più raro, perché vedete che bisogna avere due cavalli in mano e uno già sulla scacchiera. Ancora una volta fermate, se volete, poi continuiamo. L'idea è questa, si paracaduta, a volte mi viene a dire catapulta, perché secondo me è più bello, mi dà più l'idea di essere spinto, comunque, paracaduta, il cavallo in un'ottima posizione come può essere quella di 8F, in 8F, a volte qua così, in 6F, però dipende, insomma. Di solito qui, qual è l'idea? È che se adesso il bianco non si prepara a subire l'attacco e nemmeno apre la finestra, cosa succede? Che viene paracadutato, il cavallo qui viene catturato, viene ricatturato, lo schema di matto non si potrebbe applicare direttamente, perché vedete che si è aperta una finestra, infatti rescappa proprio da lì, ma non c'è problema, perché vedete che prendo il generale Argento, l'ho paracaduto qua dietro, è un altro tratticismo molto frequente questo, il re deve scappare e a questo punto ha paracaduto il generale Oro in questa posizione, il re deve fuggire a sinistra e matto di perone alla mossa successiva. Riprovare il fatto che il re davanti ai peroni, o comunque sparso per la scacchiera, è un facile bersaglio. Naturalmente appunto, come dicevo, quando arrivate qua così e voi fate questo, sembrerebbe una mossa sbagliata da parte del bianco, sembrerebbe più indicata una mossa come questa. Qual è il problema? È che semplicemente quando uno fa questo paracadutaggio qua così, si rischia appunto di ottenere la stessa situazione precedente, cioè si fa questo e si perde, perché vedete che questa casella è tenuta dal generale argento. Cominciamo a vedere le posizioni nel quale il mino è veramente il mino vero e proprio, quindi con una finestra aperta. Stavolta questo generale non è che è stato tolto, è che molto spesso questo generale viene deviato, non potrà chiaramente star fermo a tutta la partita, quindi magari questo generale è andato qui così, è andato qua, è andato qua a catturare qualcosa, ha cercato di sostenere l'avanzato di un pedone, non lo sapremo mai. Questo qua è un altro tratticismo molto frequente. Vedete che questa volta il matto non è facile da dare, perché come vedete tutte le condizioni per la difesa sono soddisfatte, però abbiamo questa torre nell'ultima traversa. Abbiamo proprio una torre, non una torre promossa, perché tipicamente questa torre ci arriva tramite paracadutaggio, è evidente. Quindi si paracadutta per attaccare il mino la la torre nell'ultima traversa, attaccando appunto la traversa basale, e si fa questo sacrificio. Questo sacrificio di, apparente sacrificio di argento, a questo punto il bianco è obbligato a catturare, se non lo fa il generale cattura e promuove, quindi è assolutamente una cosa impensabile. Vedete che il bianco cattura paracadutaggio dell'altro argento, vedete che c'è la forchetta, la tematica che abbiamo visto nei primi video, e ora si sposta a qualche parte, e si cattura e si trasforma, quindi non solo si guadagna materiale, vedete, diciamo che abbiamo guadagnato un generale oro per un generale argento, però abbiamo anche creato, vedete un'importante promozione, quindi abbiamo sicuramente un vantaggio. Promuovere ricordate che significa andare in, è come, è equivalente ad andare in vantaggio di materiale, senza contare che in questa posizione il generale argento è un po' in pericolo, perché bisogna anche salvarlo, in qualche modo non è difeso per il momento. Ok, quindi, più avanti, anche questa posizione è una posizione abbastanza interessante, perché è la posizione col mino aperto, e sembra molto simile a quella precedente, invece questa posizione qua è una posizione di riferimento, perché è una posizione più credibile, dal momento che ci serve solo un cavallo in mano, uno ce lo possiamo già avere per conto nostro, e quindi vediamo qual è la sequenza. Una volta fermate, ricordatelo sempre prima del video, cercate di farlo voi. L'idea è quella di paracadutare, sfruttare la solita debolezza del pedone inchiodato in 7C, il re deve muovere, non importa realmente dove va, perché l'idea è sempre quella di cercare di scappare da questa parte, non si può andare di qua, altrimenti si becca subito matto, come nello schema precedente. Paracadutaggio così, e saremo già, esatto, nel paracadutaggio così si ha una specie già di mezzo scacco matto, tuttavia questa casella qua permette di fuggire. Cosa succede adesso? Vedete che l'alfiere da scacco, questo generale qua è tenuto dal cavallo, il pedone deve interporsi, non c'è nessun'altra mossa, e questo qua è scacco matto, perché vedete che il pedone ancora una volta è inchiodato, si sfrutta sempre questo tema. Qui, ancora una volta, siamo sempre nella stessa situazione, tuttavia stavolta non abbiamo niente in mano, abbiamo una struttura di pedoni e nessun pezzo, dicevo, che può essere paracadutato. Cosa si può fare in questi casi? Beh, si può sempre sfruttare l'inchioratura, questa è solo una delle possibili idee, non è che questo è uno zume, un problema dove il nero muove e vince, semplicemente sono delle idee che possono essere sfruttate a seconda dell'occasione. L'idea è quella di sfondare tramite il pedone, non si può muovere questo perché è inchiodato, quindi non si può cambiarlo da parte del bianco, magari lo si difende o qualcosa del genere, non è importante se è difeso oppure no, perché vedete che io catturo e promuovo, quindi la ricattura è obbligatoria, ma vedete che dopo può benissimo esserci il continuo paracaduttaggio di pedoni, questo pezzo è inchiodato e quindi forzeremo il guadagno di questo generale. Questo è un altro tatticismo che va tenuto assolutamente presente. Siamo alle penultime fasi, se davanti non riusciamo ad attaccare con convinzione proviamo a farlo lateralmente, diamo un'occhiata a questa situazione qui. Solito sacrificio del generale argento, vedete catturo, solito doppio, stavolta prima l'abbiamo fatto con il generale argento, adesso l'abbiamo fatto con l'alfiere che può benissimo essere paracaduttato in quella zona e catturando abbiamo il solito vantaggio di materiale dovuto al fatto che l'alfiere non solo l'abbiamo messo sulla scacchiera ma l'abbiamo anche promosso, solito discorso del fatto che poi questo generale argento va difeso e possono esserci delle problematiche. Notiamo pure che in questa situazione non sarebbe cambiato nulla se il pedone fosse stato qui sopra, come al solito non è importante perché esattamente vedete che la stessa situazione si sarebbe avuta anche secondo questo schema, quindi il solito sacrificio, cattura obbligatoria, doppio di alfiere, il ref scappa, non può scappare qua, scappa di qua dove vuole, ma poteva anche scappare qua chi se ne frega, prendo, non cambia niente, aperto o non aperto cambia poco ecco. Ultimo schema, questa volta si può avere anche in mano un pezzo anche tipo la lancia che può essere utile anche questo, ancora una volta però vedete che si può sfruttare non tanto la debolezza di questo pedone ma si può sfruttare a volte anche questo attaccando il silver. Vedete che l'argento è attaccato, bisogna assolutamente catturare, non c'è dubbio, dopodiché facciamo un sacrificio di lancia, la lancia viene messa qui, ogni volta si fa una roba di questo genere vedete che abbiamo fatto una specie di adescamento, riesco a paracadutare il pezzo e attacco questo generale oro, il quale appunto deve fare qualcosa, cominciamo a vedere prima la variante più forte, il generale oro si sposta, a quel punto qua non c'è problema, vedete il nero promuove e già questo è un vantaggio perché vedete che abbiamo promosso questo pezzo, abbiamo attaccato questo generale oro, abbiamo attaccato questo generale argento e non è semplice uscirne, allora ovviamente si deve catturare ma ancora una volta la stessa tematica, quello del doppio eccetera eccetera. Naturalmente uno può dire, eh ho capito, però quando io arrivo qua così potevo anche catturare quel generale argento, ma non c'è problema perché in questo caso cosa succede? Promuovo la mia torre ovviamente, attacco il generale da dietro senza contare che come abbiamo visto in altri casi si può anche minacciare matto perché è un attimo catapultare qualcosa in questa zona ed essere seriamente in pericolo di vincere dei pezzi. Quindi ricordate appunto che questi tatticismi aiutano il giocatore a attaccare il castello mino. Come ci si fa a difendere col mino? Beh è molto semplice, si deve cercare di prevenire questi tatticismi, questo è l'idea base. Ovviamente come, dove, quando lo imparerete giocando a vostre spese. Arrivederci alla prossima puntata.